Allora, sono qua in Solidworks e volevo far vedere un'altra cosa riguardo al trim, all'accorcia entità. Quando io lo attivo, le scelte le posso fare anche da qui, non solo dal tasto destro. Se io deseleziono qua, dunque ignora la riflettura della geometria da costruzione, significa che quando io vado a tagliare se incontro delle linee di costruzione non le taglia, ok? Però naturalmente andiamo a farci un'altra linea qua intanto, ok? Naturalmente il problema è questo, perché non c'era. Ah, c'era già, non la vedevo. Ok, naturalmente se io vado, come ripeto, a corcia, adesso andiamo a creare, mantieni entità rifilate come geometria di costruzione. Se tengo attivato questo, questo è inutile, ok? Comunque non me le va a tagliare perché se io vado così, per esempio così e così, ok? Lui me le crea e naturalmente se passo di nuovo non mi va a modificare. Dunque questa, quando ho questa attivata, alla fine non... Sì, l'unica cosa è il... non cambia niente, però da un punto di vista pratico al di là del tratto, come si dice, del coso rosso che però non incide nessuno. Dunque quando io mantieni entità rifilate come geometria della costruzione è inutile questa, che sia attivata o no è la stessa roba. Questa qui invece quando non mantengo, ma a questo punto quando passo di qui non va a tagliare, va solo a tagliare qua. Ok? E questo è comodo. Ecco, dunque, a seconda di quello che ho bisogno, se voglio togliere, diciamo, le parti che voglio tagliare e non voglio mantenerle come geometria di costruzione, allora potrebbe fare comodo questo e ignorare la rifinittura della geometria della costruzione. Mentre se invece mantengo come voglio fare qua il mantieni, questa è indifferente. Ok? Perché comunque mi trasforma tutto in costruttivo. Ok, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Grazie.